Accordo raggiunto per l'alleanza elettorale tra Azione e Italia Viva. Il primo annuncio lo ha dato sui social Matteo Renzi che spiega che sarà calenda a guidare la campagna elettorale congiunta. Il leader di azione spiega che nasce oggi un'alternativa a serie pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Giorgio Meloni rassicura l'Europa in caso di vittoria, nessuna uscita dall'euro, poi attacca la sinistra. Chi ci descrive come pericolo per la democrazia danneggia l'Italia respinge anche al mittente le accuse di avere votato contro il PNRR. Sta cercando di incipriarsi il viso, commenta Letta subito la risposta della leader di Fratelli d'Italia che lo accusa di misoginia. Questa sera la riunione di emergenza ONU sulla centrale nucleare di Zaporizia che Kiev e Mosca si accusano a vicenda di avere bombardato. Una situazione molto pericolosa per la sicurezza non solo di quella regione. Intanto il Parlamento della Lettonia ha dichiarato la Russia paese sponsor del terrorismo. Un'iniziativa che ha suscitato la durissima replica di Mosca. Riga neonazista e xenofoba, dice Zakharova. Donald Trump indagato per frode fiscale. Sei ore di audizione con il procuratore generale di New York. L'ex presidente si appella al quinto emendamento, rifiuta di rispondere e parla di caccia alle streghe. E poi c'è la vicenda del sequestro delle carte a Mara Lago e l'inchiesta sull'assalto a Campidoglio del 6 gennaio scorso. Sullo sfondo il voto di midterma a novembre. Al via gli europei di nuoto nella piscina del Foro Italico a Roma. Alla prova una nazionale fortissima ma anche rinnovata e grintosa che è sostanzialmente lo squadrone da battere dopo i grandi risultati delle Olimpiadi e dei Mondiali. A guidarla lo straordinario Gregorio Paltrinieri ma dietro di lui tante altre stelle. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della Sette. Allora cominciamo dalla politica perché è nato ufficialmente il terzo polo di centro. Lo ha detto tramite un tweet il tarda mattinata Carlo Calenda che ha anche parlato di un bipopulismo di destra e di sinistra. Poi sempre online lo ha confermato anche Matteo Renzi. I due leader dunque correranno insieme dietro lo stesso simbolo con il logo dei due partiti ma con il nome del solo Calenda. Abbiamo deciso di provarci con tutto il coraggio del mondo. Arriva poco prima delle 13 l'annuncio via social di Matteo Renzi subito dopo l'incontro conclusivo con Calenda. La divisione dei collegi 50 e 50, il nome del leader di azione nel simbolo con il logo dei due partiti, la predominanza di quest'ultimo nella presenza televisiva, un capogruppo per parte alla Camera e al Senato. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Assomigliano molto a certi divi di Hollywood, Carlo Calenda e Matteo Renzi, chiamati o meglio obbligati sul filo del fatidico 3% a mettere tutti i pontini di dovere su lei. A cominciare più che da programmi o collegi uninominali, poche le illusioni su quel fronte, dalla composizione delle liste proporzionali. Da lì arriveranno infatti i futuri parlamentari di quel centro nei cui confronti Calenda diceva di provare schifo. Lui lo chiama terzo polo ma diventato ora strategico stando ai sondaggi sia per Italia Viva che per azione, avviati a multicandidature personali sia per Renzi che per Calenda. Pur con tutte le diffidenze reciproche dimostrate in passato, sull'obiettivo finale i due leader marciano all'unisono contro il bipolarismo che addirittura Calenda definisce bipopulismo perché, questa la sua argomentazione, il Partito Democratico si alleera con i 5 Stelle un minuto dopo le elezioni. Ipotesi rispinta subito dal ministro Patuanelli. Oggi non vedo le condizioni perché riprende il dialogo tra Movimento 5 Stelle e PD, dice. Mentre Renzi preferisce dedicare, come sempre, serene attenzioni a Letta e al PD. Ha fatto una frittata, sapevo che era amico di Meloni, ma non fino a questo punto. Che abbia più che mai il PD nel mirino non stupisce il rischio di finire penalizzati entrambi dal voto utile. Infatti è più che mai concreto per questa nuova versione del sogno centrista. Guardato a distanza dalla coppia Tabacci di Maio, in via di alloggiamento in zona PD, è impegnata stamattina nella presentazione della partnership con Rete Nazionale Civica. Ma la frecciata sul centro, più velenosa della mattinata, arriva dall'ex democristiano Follini ed è per due. Casini e Tabacci non riescono a lasciare il passo. Sono ultimi esponenti visibili della tradizione democristiana. Un nuovo centro, dunque, che potrebbe convogliare su di sé i più moderati di destra e di sinistra. Almeno questo è quello a cui puntano e che sperano i due leader. Ma di questo non si preoccupa eccessivamente Giorgia Meloni, che invece cerca, lavora per farsi una credibilità, soprattutto all'estero. Chi ci descrive come pericolo per la democrazia e la stabilità del paese danneggia l'Italia. Giorgia Meloni mette da parte il fair play e tira fuori le unghie per replicare agli attacchi degli avversari e agli articoli imbeccati dalla sinistra, dice, in cui si parla dell'eventuale vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni come ad un disastro per il paese. Non è così per la leader di Fratelli d'Italia che sui canali social rilancia stamani il video in tre lingue per la stampa estera che smonta le ricostruzioni di chi prefigura svolte autoritarie e l'uscita dall'euro. Tutte sciocchezze scandisce Meloni con il vento in poppa nei sondaggi. Proprio per quel videomessaggio rivolto all'Europa in cui Meloni spiega chi è e che cosa vuole fare era stata attaccata ieri dal segretario del PD Letta. Prova a rifarsi un'immagine ma sta con Orban l'affondo. Frasi, la replica Letta della leader di Fratelli d'Italia che tradiscono la sua misoginia. Si alza il livello dello scontro in vista del voto del 25 settembre tra Meloni e Letta che si contendono di fatto il ruolo di primo partito e la guida di Palazzo Chigi. Falso, ribatte oggi Meloni che Fratelli d'Italia abbia votato contro il PNRR. Siamo stati sempre favorevoli al recovery plan. Ci siamo astenuti, poi aggiunge, per una questione di metodo perché il piano di ripresa e resilienza è stato consegnato in Parlamento un'ora prima della discussione. Con Meloni Premier la tenuta del paese sarà garantita, afferma stamani anche il capogruppo alla Camera Lollo Brigida che sulla politica estera rivendica la serietà dimostrata dal partito. Nel centrodestra l'accordo raggiunto sul programma della coalizione ha però sfumature diverse. Sulla flat tax rilanciata da Salvini e Berlusconi frena la Meloni che preferisce puntare non sulle promesse ma su quello che si può realizzare nei fatti. Oggi intanto verrà presentata la lista unica dei moderati di centrodestra per rafforzare, spiega il presidente della regione Liguria-Toti di Italia al centro, l'area di Forza Italia non adeguatamente presidiata. L'operazione è finalizzata alla nascita della gamba moderata dell'alleanza. Stimata fa sapere Maurizio Lupi di noi con l'Italia al 3,5%. Nel terzo polo nascente di Calenda e Renzi c'è soltanto molta confusione. È una costola della sinistra, afferma l'azzurra Anna Maria Bernini. Resta aperto intanto il tavolo sui collegi con i rispettivi frontrunner. Siamo ad un passo dall'accordo definitivo, annuncia stamani il coordinatore di Forza Italia, Tajani. Ora parliamo del conflitto in Ucraina perché preoccupano sempre di più i continui bombardamenti attorno alla centrale nucleare di Zaporizia di cui Kiev e Mosca si accusano vicendevolmente mentre questa sera alle 21 ore italiana sarà riunito sull'argomento a New York al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite appunto lo stesso Consiglio di Sicurezza su richiesta di Mosca che in queste ore inoltre si rivolta contro la decisione della Lettonia che con una risoluzione parlamentare ha dichiarato la Russia un paese sponsor del terrorismo. A quasi sei mesi dall'inizio del conflitto in Ucraina non si intravedono spirali di ripresa delle trattative di pace anzi c'è chi punta il dito contro Mosca come il Parlamento Lettone che ha adottato una risoluzione che dichiara la Russia uno stato sponsor del terrorismo per le sue azioni in Ucraina che costituiscono un genocidio mirato contro il popolo ucraino. Dietro questa decisione non c'è altro che xenofobia bestiale e questi ideologi possono essere chiamati solo neonazisti la risposta di Maria Zakharova portavoce del Ministero degli Esteri russo mentre il sito del governo finlandese pronto a entrare nella Nato sarebbe stato attaccato da un gruppo di hacker russi. Nel campo di battaglia intanto gli attacchi si intensificano da entrambe le parti nella notte l'esercito ucraino ha colpito due depositi di munizioni russi e avrebbe ucciso 42 soldati mentre Mosca dopo la raffica di razzi di ieri e le 13 vittime civili ha continuato a bombardare più volte l'area di Nikopol area che si trova esattamente di fronte alla centrale nucleare di Zaporizia occupata dai russi all'inizio dell'invasione. Mosca e Kiev si accusano reciprocamente dei bombardamenti avvenuti nei giorni scorsi vicino all'impianto. Secondo l'ente nazionale per l'energia atomica ucraino l'intenzione dei russi è quella di dirottare il flusso di elettricità prodotto dai reattori verso la Crimea togliendo il collegamento alla rete ucraina ma il rischio avverte l'agenzia è che si provochi un effetto Fukushima come nel caso della centrale giapponese del 2011 la manomissione dell'impianto potrebbe portare fuori controllo i reattori. Per questa sera intorno alle 21 italiane il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha convocato su richiesta di Mosca una riunione di emergenza per discutere la situazione della centrale e valutare se inviare sul posto una missione di esperti. Il gruppo dei paesi più industrializzati del G7 intanto ha accusato Mosca di mettere in pericolo la regione intorno a Zaporizia e ha chiesto la restituzione dell'impianto all'Ucraina. In Crimea intanto i filorussi hanno aggiornato il conto dei danni delle vittime dopo l'attacco ucraino alla base aerea di Saki almeno un morto e 14 feriti. Kiev ha dichiarato di aver distrutto nove aerei da guerra russi circostanza negata da Mosca ma alcune foto satellitari mostrano chiaramente che almeno sette aerei da combattimento sono stati fatti saltare in aria e altri probabilmente danneggiati. Un obiettivo strategico per i russi la base di Saki molto distante dalle linee ucraine raggiunto verosimilmente grazie ai missili a lunga gittata forniti dagli americani. Vicino a Mosca invece è scoppiato un incendio in un'unità militare che si è esteso su 1200 metri quadrati. Abbiamo visto della Lettonia ma c'è anche l'Estonia che ha deciso di vietare l'ingresso sul suo territorio ai cittadini russi anche già in possesso di visti Schengen rilasciati da Tallin. Questo l'ha dichiarato il ministro degli esteri Estone. La Russia naturalmente reagisce subito e si rivolge a Bruxelles all'Unione Europea. Dice il buonsenso impedisca di procedere con l'idea di vietare i visti di ingresso ai cittadini russi. Insomma, questo è sicuramente un tema molto scottante che affronteremo anche nei prossimi giorni. Ora attraversiamo l'Atlantico andiamo negli Stati Uniti d'America perché dopo le perquisizioni in una delle sue residenze da parte dell'FBI Donald Trump non ha risposto alle domande della procuratrice dello Stato di New York in merito ad una inchiesta per frode fiscale. Donald Trump per una volta sceglie il silenzio. L'ex presidente americano interrogato dalla procuratrice di New York, Letizia James nell'ambito di un'inchiesta sulla Trump Organization ha invocato il quinto emendamento della Costituzione USA e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Trump brandiva la spada e ora invoca uno scudo titola il New York Times una scelta a sorpresa in passato criticata dallo stesso Tycoon che in un dibattito elettorale lo definì l'emendamento dei mafiosi. Trump a pochi giorni dalla perquisizione della sua residenza in Florida da parte dell'FBI sceglie dunque la via della cautela. Una volta mi è stato chiesto se si è innocenti perché invocare il quinto emendamento ora sulla risposta quando la tua famiglia la tua società e tutte le persone nella tua orbita diventano il bersaglio di una infondata caccia alle streghe motivata politicamente non si ha altra scelta ha incalzato Trump che si definisce una vittima del sistema corrotto e monopolizzato dai radicali di sinistra. La tensione sale mentre Trump deve affrontare rischi legali da più direzioni ci sono le indagini criminali sul possibile occultamento di documenti riservati e gli sforzi per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 c'è l'indagine civile di James e quelle del congresso sulle tasse e la condotta relativa all'assalto di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Nel frattempo il direttore del Federal Bureau of Investigation si dice preoccupato per le minacce ricevute da parte dei sostenitori del magnate americano dopo la perquisizione della sua residenza. Sui social infatti cresce la rabbia del popolo di Donald Trump contro il blitz ritenuto una violazione senza precedenti dettata solo da motivi politici. Molti parlano di tirannia dei federali di persecuzione di tradimento ma le parole più dure sono contro i democratici che avvelenano il sistema. Da qui la chiamata l'azione è a una guerra per smantellare l'establishment e mentre le istituzioni democratiche americane tremano la perquisizione di Mar-a-Lago ha compattato molti eminenti repubblicani attorno all'ex presidente un terremoto che rivelerà i suoi effetti sulle elezioni di medio termine a novembre prossimo per il controllo del congresso e la corsa presidenziale del 2024. Trump che ha sempre negato i cambiamenti climatici ma la siccità è sotto gli occhi di tutti la brevissima tregua di questi giorni sull'Europa è già terminata ci sono state delle piogge che peraltro hanno provocato più danni che sollievo e l'Italia come il resto d'Europa è tornata sotto l'AFA in Francia è emergenza incendici si interroga anche sulle difficoltà nello spegnimento dovuto al fatto che pensate il 75% delle foreste francesi è di proprietà privata mentre per quanto ci riguarda i roghi sono sparsi un po' dovunque c'è la Liguria e torna a bruciare anche il fronte del Carso Torna il fuoco sul Carso Triestino alle 6.30 del mattino un incendio è divampato nella zona di Duino sul sentiero panoramico Rilche per fortuna deserto a quell'ora lo svincolo autostradale di uscita dell'autostrada 4 nella zona di Trieste è tuttora chiuso le fiamme sono domate ma in corso la bonifica l'innesco lungo una linea retta di 50 metri fa pensare al dolo e il quinto rogo che divampa in tre settimane nell'area in questo periodo ha visto bruciare oltre mille ettari soltanto sulla parte italiana del Carso e oltre 3.000 sono invece gli ettari del Carso in area slovena quasi 4.000 perciò tra Italia e slovena una superficie impressionante bruciata quando si pensa di aver ormai domato di avere l'incendio sotto controllo così in realtà non è anche dopo diversi giorni gli inneschi possono avere luogo va anche peggio in Francia dove ha ripreso vigore l'immenso fronte che sta incenerendo le foreste della Gironda da un mese in questa zona si combatte contro i roghi che hanno già divorato 6.000 ettari di boschi e costretto all'evacuazione 10.000 persone in tutto il paese 10.000 pompieri sono al lavoro scrive il presidente Macron che annuncia che 5 paesi europei Germania Grecia Polonia Romania e Austria aiuteranno Parigi a far fronte agli incendi nel paese transalpino si è accesa anche una polemica sulla difficoltà di intervenire nei territori boschivi che per il 75% sono privati con accessi complicati oggi il primo ministro Elisabeth Bourne visiterà la zona insieme al ministro dell'interno che ha dichiarato di avere grandi sospetti che l'incendio sia opera di piromani è però l'ondata infinita di caldo di questa estate a contribuire al dilagare di siccità e fiamme la canicule che dura da luglio quando si sono superati i 40 gradi nella zona sud-occidentale del paese transalpino è ricominciata tra oggi e domani previsti picchi di 39-40 gradi in 26 dipartimenti in questa pazza estate la temperatura di mari e fiumi si è alzata come nella senna acqua a 25 gradi dove era rimasto incastrato e poi è morto durante il tentativo di salvataggio un beluga di 4 metri la cronaca giudiziaria ci porta in calabria dove la guardia di finanza e i carabinieri hanno sequestrato beni per 160 milioni di euro ad un imprenditore regino che negli anni avrebbe avuto il solido sostegno dell'andrangheta per le sue opere edili un sequestro gigantesco da 160 milioni di euro una lista interminabile di immobili e conti intestati a società che sarebbero controllate da uomini vicini dell'andrangheta nelle 144 pagine con cui il tribunale di Reggio Calabria esproprio i beni di Carmelo Ficara imprenditore calabrese nel dicembre scorso condannato in primo grado a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa c'è la storia criminale di una parte di Reggio Calabria un intreccio letale tra edilizia criminalità organizzata malaffare intimidazioni una storia che secondo i magistrati parte da lontano dagli anni 90 quando l'imprenditore regino stando ai racconti di due collaboratori di giustizia avrebbe stretto un rapporto con due cosche prima Iratella poi a partire dagli anni 2000 il potente clan dei De Stefano grazie a questi legami Ficara avrebbe messo le mani sui due quartieri controllati dalla famiglia andranghetista gli archi e mercatello costruendo centinaia di complessi residenziali lo schema per gli investigatori si è consolidato negli anni Ficara scrivono i magistrati espandeva le sue attività economiche di speculazione immobiliare imponendosi come uno dei principali imprenditori edili locali consentendo all'andrangheta di infiltrarsi nella gestione di tali attività economiche lecite un connubio che sarebbe stato interrotto nel 2018 quando l'operazione Monopoli aveva portato in carcere imprenditori legati alla criminalità organizzata un impianto confermato in primo grado dal tribunale di Reggio Calabria che aveva condannato nove imputati per un totale di 50 anni di carcere tra di loro c'era Carmelo Ficara cui i magistrati hanno oggi confiscato beni considerati il profitto di un patto criminale consolidato in 30 anni vivere a Venezia diventa sempre più difficile e più caro negli anni si è sempre più spopolata e la soglia degli abitanti è ora scesa sotto quota 50.000 una città sempre più piccola con una popolazione sempre più anziana e sola a considerare solo i dati dell'anagrafe l'immagine di Venezia stride con le cali chiassose affollate di turisti di questi mesi o con quella di migliaia di studenti che la raggiungono per studiare nei suoi prestigiosi atenei lo spopolamento della città storica è un fenomeno iniziato da decenni che proprio oggi supera una soglia psicologica importante scendendo al di sotto dei 50.000 residenti un traguardo visto con preoccupazione dai veneziani da qualche settimana le loro finestre sono comparsi cartelli e bandiere con la fatidica cifra 49.999 due in più degli effettivi residenti rimasti Venezia ne perde in media due al giorno erano 175.000 negli anni 50 poi la discesa è stata inesorabile solo tra gennaio e luglio di quest'anno il centro storico ha perso 340 abitanti complice forse anche lo smart working l'amministrazione comunale sottolinea come residenti vada aggiunta a una buona parte di cosiddetti abitanti fantasma vivono in città ma non hanno la residenza fra studenti e lavoratori si stima siano una forbice tra i 20 e i 30 mila abitanti che ora si propone vengano registrati come domiciliati anche in vista dell'introduzione del ticket di accesso alla città che per i turisti entrerà in vigore da gennaio comunque la trasformazione di Venezia in un'attrazione che frutta 2 miliardi e mezzo di euro l'anno ha scoraggiato i residenti tra affitti esorbitanti e servizi che spariscono le associazioni locali dopo aver lottato contro il turismo invasivo delle navi da crociera ora si concentrano sullo spopolamento chiedendo politiche incisive di sostegno per la casa un potenziamento dei servizi e del lavoro il settore turistico insistono non può essere l'unica forma di economia siamo arrivati alle notizie sportive cominciamo dal nuoto perché sono cominciati oggi a Roma al foro italico gli europei in vasca l'Italia si presenta come grande favorita e con le prime finali del pomeriggio comincia la corsa alle medaglie ciac si nuota l'Italia in Italia le bellezze affascinanti di Roma per esaltare una nazionale bella giovane e vincente cosa chiedere di più a questi europei che approdano nella capitale dove mondiale del 2009 tante medaglie al collo 22 totali con 9 ori nell'appuntamento iridato di Budapest a giugno terzi dietro Stati Uniti e Cina con Australia e Canada alle spalle questo significa che scaramanzia a parte siamo considerati una potenza in campo europeo ci spetta di diritto il ruolo di favoriti con tutto quello che comporta a livello nervoso ma gli azzurri hanno dimostrato di saper reggere bene la pressione anche nei momenti delicati grazie alla forza del gruppo sprende lungo il tricolore di un team che senza la pellegrina è capitanato dalla stella Gregorio Paltrinieri sua maestà invasca nelle acque libere che saranno quelle di Ostia dal 18 al 21 agosto il 16 può essere una data speciale per Greg nei 1500 ci arriva con l'oro di Budapest come primatista europeo adesso attacca il record dei Sun Yang 14-31-02 che resiste da 10 anni ai giochi di Londra oltre al super campione c'è un astro nascente come C'è Con primatista del mondo nei cento d'orso e la giovanissima Pilato già in prima fila con il record nei 50 rana da oggi i nostri possono regalare medaglie ogni giorno dalle 18 alle prime finali con Razzetti nei 400 misti e la 4x200 stile destinati a salire sul podio nel giorno di Ferragosto i riflettori saranno puntati sulla padrona di casa Simona Quadarella e per lei sarà il momento della verità nel 1500 Consagliori europei tra Glesgo e Budapest 2021 ai favori del pronostico ma la serenità gli deriva dal fatto di avere vicino gli affetti più cari nella sua città stamattina a miglior tempo per la finale degli 800 di domani ci sarà il calore dei familiari anche per un'altra romana la tuffatrice Chiara Pellacani 20 anni a settembre che vive l'emozione di tornare a casa dopo aver scelto di studiare e allenarsi in Louisiana si presenta con l'argento mondiale nel sincro con Santoro e il bottino in 5 medaglie gli europei di un anno fa e poi c'è il calcio sabato inizia il campionato ma non si fermano le trattative del mercato a 48 ore dall'inizio della stagione Filip Kostic l'ultimo volto nuovo in ordine di arrivo nel campionato italiano con un ritardo di sole 24 ore l'esterno serbo è atterrato stamattina a Torino ed è pronto a mettersi a disposizione di Max Allegri non è da escludersi un suo impiego immediato nel match d'apertura della stagione che la Juventus giocherà in casa contro il Sassuolo lunedì prossimo all'Aintracht andranno circa 17 milioni bonus compresi tre e mezzo al giocatore che si è accordato per un contratto triennale ora l'obiettivo bianconero per rinforzare l'attacco è Memphis De Pai che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Barcellona a causa dei problemi finanziari del club catalano sul giocatore olandese c'è però anche l'interesse del Tottenham il Sassuolo dal canto suo si presenterà allo stadium con l'erede di Scamacca prodato in Premier League al West Ham gli emiliani hanno infatti perfezionato il prestito con obbligo di riscatto di Andrea Pinamonti dall'Inter un'operazione da 20 milioni complessivi che potrebbe consentire alla società di Zhang di togliere definitivamente dal mercato Scrinier l'arrivo dell'ex centravanti dell'Empoli accelera la trattativa per la cessione di raspadori al Napoli De Laurenti è pronto a formulare una nuova offerta da 27 28 milioni più 5 di bonus si è bloccata invece la trattativa con il Verona per l'ingaggio del ciolito Simeone conseguente lo stop al trasferimento di Petagna al Monza ed è invece ufficiale l'arrivo a Napoli di Salvatore Sirigu dopo l'acquisto del centrocampista croato Nikola Vlasic il Torino ha accelerato le trattative con l'Atalanta per Miranciuk il nazionale russo potrebbe arrivare in Granata con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni la salernitana infine ha individuato in Antonio Candreva il rinforzo per il proprio centrocampo l'ex nazionale svincolato dalla Sampdoria firmerà un contratto da un milione e mezzo di euro netti a stagione fino al 2025 ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ritorno gli aggiornamenti a tra poco ben tornati ben tornati allora c'è un aggiornamento sull'Ucraina perché nel corso del telegiornale abbiamo già parlato della preoccupazione per la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizia e in vista del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di questa sera il segretario generale Guterres poco fa ha invitato le forze militari di Russia e Ucraina a cessare immediatamente tutte le attività militari nelle immediate vicinanze dell'impianto dice esorto le parti a ritirare tutto il personale e le attrezzature militari a senersi da qualsiasi ulteriore dispiegamento di forze e attrezzature sul sito la struttura non deve essere utilizzata come parte di alcuna operazione militare e questo naturalmente per evitare il peggio che speriamo non accadrà davvero mai il tempo a nostra disposizione si è esaurito io vi ringrazio ancora per essere stati con noi vi auguro un buon pomeriggio vi do appuntamento a domani arrivederci a